Oggi i casi di positività al coronavirus sono 93 in più rispetto a ieri, l'1% in più rispetto al totale del giorno precedente, i guariti crescono del 10%. Ancora 28 ricoveri in meno rispetto a ieri, si registrano 12 nuovi decessi, 4 uomini e 8 donne con un'età media di 86,2 anni. La regione toscana si conferma il decimo posto in Italia come numerosità di casi. Le province con il tasso più alto sono Massa, Seguelucca e Firenze, la più bassa Livorno. Si riducono ancora le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid-19. È il punto più basso raggiunto dal 18 marzo 2020 per i ricoveri totali, il 16 di marzo per le terapie intensive. Le persone complessivamente guarite salgano a 3.218, più 292 rispetto a ieri. In tutto sono 1.274 le persone clinicamente guarite, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all'infezione. E 1.944 dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali con doppio tampone negativo.